Si svolgerà questa sera sul rinomato Ponte del Mare la fiaccolata in favore della Grecia in vista del referendum di domenica che chiamerà le urne, i cittadini, per decidere le sorti della propria economia. Per cambiare la Grecia nell'Europa è giusto che il popolo greco decida che cosa fare, se ritornare nelle mani complete della Troica o cambiare registro. Io lo consiglierei a tutti quanti i politici che oggi parlano dei greci. Qui c'è stato un referendum dove abbiamo vinto il 97% per la ripubblicizzazione dell'acqua, non c'è stato un politico che era per la privatizzazione che si è dimesso, non c'è stato un politico che ha detto che era per la ripubblicizzazione, che abbia fatto una legge per cambiare la realtà che c'è. Sostenere la Grecia come unico esempio di democrazia contro le politiche della Troica è la morsa che stringe i paesi dell'Unione chiedendo taglie, austeriti e sacrifici. Questo l'appello di Pescara che chiede massima partecipazione stasera. Noi abbiamo in realtà non una discussione sull'euro, ma sulla capacità, sulla possibilità di una nazione, in questo caso la Grecia, ma se ne potrebbe parlare anche per altre nazioni, una possibilità di decidere la propria linea economica. E voglio ricordare che dal 2008 sono stati assegnati somme ingentissime, miliardi e miliardi di euro alle banche per salvarle, al popolo greco non è andato niente. L'Europa è così grande e così potente, non è possibile che non possa delazionare un debito di così poca portata.